Ciao, io sono Luca di approccialla.it e in questo video vedremo perché il 99% degli uomini non scopa su Tinder. Per iniziare, per chi non mi conoscesse, sono il fondatore di approccialla.it, un'azienda di formazione nel settore miglioramento sentimentale che dal 2018 ha fatto ottenere a centinaia di uomini risultati come andare a letto con nuove ragazze o entrare in una ragazza di coppia, anziché fermarsi soltanto al numero di telefono. Tutto questo viene fatto tramite corsi a vivo, videocorsi online e consulenze che ricordo che sono a pagamento. Quindi parliamo del perché il 99% di uomini non riesce ad andare a letto con nuove ragazze da Tinder, ma neanche nuove ragazze, ma con una ragazza. C'è questa cosa qua che su Tinder, chi è veramente capace, e non è che serva molto per essere capace, non è che sono così tanti i concetti a conoscere per quanto riguarda le app di incontri, per appunto distinguersi da quelli che sono la massa di tutti gli altri uomini in chat, però chi diventa capace in chat effettivamente rientra in un 1% degli uomini che ci sono lì su Tinder, che si becca poi il 90-95% di tutte le ragazze che ci sono sull'app in questione, che sia Tinder, che sia in realtà qualsiasi altra applicazione, ho detto Tinder perché di base è quella più conosciuta, quella più usata, però lo stesso discorso vale per tutte le altre app di incontri. mentre poi il restante 99% dei uomini si beccano le briciole, si beccano l'1% dei ragazzi, ma la verità è che la stragrande maggior parte dei uomini non si becca niente da Tinder, non arrivano a nessun tipo di appuntamento con una ragazza, o se ci arrivano non ci vanno a letto con le ragazze con cui arrivano ad un appuntamento. E in questo video vedremo una serie di dimostrazioni di questa cosa, e questo è un video anche abbastanza particolare, un po' diverso dai video che faccio di solito, perché vedremo appunto tutta quanta una serie di, a questo giro vediamo non dimostrazioni di mie chat con ragazze, vediamo all'opposto, dimostrazioni di uomini che ci provano con ragazze su Tinder, quindi dico un attimo come è nato questo video, prima o meno un mese fa ero con la mia ragazza e mi ha detto ma così così, lei non ha mai usato Tinder, o quanto meno mi ha detto che non ha mai usato Tinder, non lo so, e siamo insieme già da tanti mesi, e lei ha detto ma perché non facciamo un tuo account su Tinder? così per gioco, con le tue foto e vediamo che cosa succede, perché tanto lo ha detto che lo possiamo fare nel giro di qualche ora, tanto ha tempo di iscriverti e nel giro di tipo due minuti sicuramente fai un sacco di match, infatti poi è stato così ma qualsiasi ragazza un minimo carina farebbe fare un sacco di match nel giro di due secondi e quindi l'ho registrata così su Tinder con lei di fianco a me che guardavamo cosa succedeva e nel giro di due secondi ovviamente ha fatto un bel po' di match, adesso qua ne vediamo, mi sono preparati del 7 o poi dopo qualche ora l'ho cancellata da Tinder, l'ho fatto tutto quanto dal mio telefono e però ho screenshotato tutte le varie chat, poi non è che sono state tante per far vedere come gli uomini non hanno la minima idea di come si fa su Tinder e la cosa non cambia da paese a paese, io vivo a Dubai e quindi le chat che vedremo sono geolocalizzate appunto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, non pensare che il discorso cambi se ci si sposta in Italia, potrò fare la stessa cosa, magari poi la farò anche un altro giorno e faccio la stessa cosa mettendo la geolocalizzazione in Italia, stessa cosa, quindi non pensare che sia diverso, ma anche se la metti in qualsiasi altro luogo del mondo non cambia niente, i uomini non sono capaci in chat, quindi andiamo a vedere adesso la prima chat, partiamo dal profilo, alcuni di questi profili in realtà vedremo soltanto la parte di profilo, perché poi sono uomini che non hanno fatto in tempo a scrivere, perché poi l'avevo già cancellato la mia ragazza da Tinder, e quindi vedremo soltanto il profilo, però andremo a vedere tutti quanti gli errori che fanno gli uomini e di conseguenza nel momento in cui capisci gli errori, se sei sveglio li vai a evitare gli errori e fai le cose che sono giuste, in modo poi da ottenere di sicuro match, perché io ho messo like a caso a tutti quanti gli uomini che vedevo in quel momento che passavano su Tinder, perché altrimenti non facevo dei match, quindi per velocizzare la cosa ho messo il like a tutti quanti, però tanti di questi uomini, cioè tanti adesso non so, ne vedremo qua sette, non avevano un profilo fatto bene, non avrebbero ottenuto il match, e di sicuro, adesso vedremo il disagio totale in chat, tutti quanti gli errori che si fanno in chat, quindi partiamo dal primo appunto, e chiaramente sarà tutto censurato, quindi il mio team dovrebbe aver censurato le cose, io qua davanti a me ho tutto quanto in realtà non censurato, però chi ha le facce dei vari uomini, e anche i nomi, tutti quelli sono dati sensibili, sono ovviamente censurati, partiamo dal profilo di questo qua, dal primo profilo, quindi tutto quanto in inglese, appunto non essendo già localizzato a Dubai, cioè non essendo già localizzato in Italia, tutto quanto in inglese, però tanto traduco, non c'è nessun tipo di problema, però partiamo innanzitutto dalle foto, la prima foto in realtà non è neanche malissimo, il problema è che non comunica niente, non c'è niente sullo sfondo, una delle cose importanti a livello di foto, non so come dire, raccontare già una storia attraverso le foto, si dice anche la location ti dà valore, quindi sarebbe bene, che a livello di sfondo, non ci sia qua, non so, sarà tipo in un bar, non si capisce che cos'è, non c'è niente sullo sfondo, qua ok, non è malissimo come foto, magari si potrebbe migliorare un pochino la luminosità, però non è malissimo come foto, però in realtà un errore è che non sta sorridendo, e questa qua è la cosa più importante, è una delle cose più importanti, soprattutto per la prima foto, è che ci sia il sorriso, ok, perché in questo caso non si crea l'effetto indesiderato, che si sembra arrabbiati, però per tanti uomini, quando non sorridono nella foto, si crea l'effetto dove sembrano arrabbiati, anche se non lo sono, però si crea questo effetto, quindi è molto importante sorridere nella prima foto, però non c'è niente sullo sfondo, non comunica niente, cioè non si tratta di, non vuol dire che deve avere sullo sfondo, robe super mega iper galattiche, però molto banalmente, un bel panorama, anche non lo so, colori magari sul verde, sull'azzurro, anche aggiustare le foto a livello di luminosità, poi adesso lo vedremo, una cosa che non fa praticamente nessuno, cioè le foto le fanno buie, la luce naturale delle foto, non è mai buona, bisogna sempre lavorarla, un attimo la foto, lavorarla, ci sono un miliardo di applicazioni, tante volte il telefono ce l'ha già installata, queste funzioni, basta un attimo cercare, svearsi un attimo, però la maggior parte dei uomini non si svegliano su queste cose qua, e nonostante siano, cioè ci sono tantissimissimi, a parte in Italia, ma anche proprio in giro a livello globale, ci sono tantissime persone che spiegano queste cose qua, riguardo a Tinder, che gli errori da non fare, però cioè, è assurdo, cioè io ci penso, nonostante tutto quanto l'impatto, che tutti quanti i vari formatori a livello globale, dicano queste cose, non entra, cioè per quanto io lo posso dire, per quanto altri formatori, sia in Italia, che al di fuori d'Italia, possano dire queste cose, non entra nella testa della gente, è assurdo, però va bene anche così, come ho detto prima, nel momento in cui diventi capace, se rientri nel 1%, si becca il 99% delle ragazze, che ci sono in chat, mentre tutti gli altri rimangono a bocca asciutta, quindi vediamo un attimo la descrizione, tanto adesso non penso, ci focalizzeremo troppo sulle descrizioni, quindi se sono tornato, all good things, vabbè qua niente di particolare, non è una descrizione super interessante, però la descrizione è la parte meno importante, della costruzione del profilo Tinder, è una cosa che si, ti può incrementare un pochino i match, è una cosa che può portare la ragazza, magari a scriverti loro, ad agganciarsi a qualcosa, di là sulla tua descrizione, però è la parte meno importante, potresti anche per esempio lasciarla vuota, la descrizione, e avere delle foto buone, e faresti comunque un sacco di match, e alcuni uomini che magari hanno addirittura, delle foto che sono fatte bene, e però poi hanno una descrizione che fa schifo, una descrizione che fa schifo, poi invece ti rovina, il lavoro delle foto, però è la parte diciamo meno importante, io tante volte, per chi ha il videocorso seduzione online, può vedere la parte sulla descrizione, può vedere la mia descrizione che io utilizzo, per quanto riguarda Tinder, e ho fatto vedere proprio nel videocorso seduzione online, come delle volte utilizzo una mia descrizione da cazzeggio, e come delle volte invece utilizzo, una mia descrizione seria, fatta correttamente, si ottiene di più con quella fatta correttamente, però si ottiene tantissimo, anche con una descrizione anche molto blanda, molto da cazzeggio, perché la parte importante è sulle foto, adesso non ci stiamo a dilungare qua su questa cosa, siamo soltanto all'inizio, quindi andiamo a vedere la foto successiva, ecco questa qua è una foto che andrebbe totalmente eliminata, non va bene, è troppo da vicino, sembra anche un selfie, poi non so se sia un selfie o no, però questo è uno degli errori che fanno gli uomini su Tinder, che mettono i selfie, non si mettono i selfie su Tinder, è un errore, e questa non so se è un selfie, però in ogni caso non comunica niente, non c'è niente sullo sfondo, che cazzo è questa cosa, non c'è niente, poi ripeto, ma non c'è solo la delle foto, quindi tu in questo momento non puoi vedere la faccia della persona, non è una persona brutta esteticamente, però non comunica niente la foto, perché non è la parte estetica, è tutto quanto una serie di requisiti, che stiamo adesso vedendo in maniera indiretta, tramite tutti quanti gli errori che fanno gli uomini in chat, non comunica niente questa cosa, che cazzo vuol dire, che cazzo mi significa, poi vediamo la prossima foto, questa qua, ecco guarda, qua si crea l'effetto, lì che dicevo prima, che lui non sta sorridendo in questa foto, però sembra arrabbiato, non so come dire, lui qua è serio, non sta sorridendo, però se, non so, almeno è la mia percezione, ah però effettivamente, tu non puoi vedere, effettivamente la sua faccia, perché sarà censurata, però io la vedo che non è censurata in questo momento, e sembra arrabbiato, nella foto, e oltretutto sembra che ti può stare per uccidere il cane, con la faccia arrabbiata, e con il cane così, sembra che stia per uccidere il cane, adesso lui ha messo questa foto qua, sicuramente perché sa, che una cosa buona, per quanto riguarda Tinder, mi viene da ridare, cosa che sembra che sta per uccidere il cane, comunque cerco di rifocalizzarmi, e come ho detto, adesso mi sto dimenticando cosa che volevo dire, ah ecco ti dicevo che appunto, lui ha messo la foto con il cane, perché sa che sicuramente, mettere una foto con un cane, aiuta nell'ottenere i match, quindi il cane è il miglior amico dell'uomo, sia nella vita reale, sia anche su Tinder, e però non così, cioè così sembra tipo, lo sta per uccidere il cane, quindi non così, magari una foto fatta un po' più da lontano, con uno sfondo così, è tutto quanto scuro, non c'è niente sullo sfondo, quindi ripeto, anche per chi ha, sempre per chi ha il videocorso seduzione online, anche lì ci sono tutte quante, le foto che utilizzo per Tinder, ho anche io una foto con un cane, però una foto dove si sta giocando con un cane, ed è fatta da lontano, e poi come ho detto, è troppo scuro a livello di colori in questa foto, quindi andrebbe fatta con uno sfondo un po' più, diciamo, colorato, e anche poi sempre migliorare l'umidità delle foto, non va bene così, andiamo alla foto successiva, qua proprio, come ho detto, sia i selfie, foto allo specchio, rientrano sempre nella stessa categoria dei selfie, quindi non vanno bene, quindi le foto te le deve fare qualcuno, possibilmente, non da due centimetri di distanza, anche però dipende da vari discorsi, però di sicuro non, cioè tu puoi anche farti una foto da solo, io tantissime volte mi faccio, quando vado in posti sono un po' più interessanti, mi faccio io da solo le foto, però le faccio apparire come se me l'avesse fatta qualcuna una foto, non mi faccio un selfie, magari appoggio il telefono da qualche parte, e imposto l'autoscatto, oppure magari mi autofilmo come video, mi inizio a muovere nel video, e poi dopo prendo, inizio a fare un po' di screenshot nelle pose, che sono venute bene, quindi basta un attimo ingegnarsi, però mi rendo conto che queste cose non siano di immediata comprensione per tutti, ma in realtà non è vero, la maggior parte dei uomini sono proprio stupidi, perché ripeto, con tutte queste informazioni, non solo io, ma anche altri formatori, sia in Italia, che al di fuori dell'Italia, in tutto il mondo, cioè ci sono veramente milioni di video, riguardo a questi argomenti, e però non entrano in testa la gente, è assurdo come cosa, quindi non va bene questa cosa, a livello di, sicuramente non è vestito male, anche se in realtà, il vestirsi in mania troppo elegante per Tinder, non sempre va bene, magari eviterei la cravatta, bisogna comunicare un look, non troppo serio a livello lavorativo, quindi magari senza cravatta ci potete anche stare, però non la foto allo specchio, e non in un posto, che non vuol dire niente, quindi non va bene, non va bene, quindi andiamo a vedere, ecco adesso qua c'è la parte di chat, che però c'è la chat che vedremo, non c'è praticamente niente, c'è semplicemente, sono io che faccio lo stronzo, che in realtà lui percepisce, che è una ragazza, sono io che faccio la stronza con lui, ma nel senso che io in realtà, io in realtà stavo cercando di dargli dei consigli, solo che vabbè, quindi lui invia l'emoticon lì della mano, che saluta, frase d'approccio standard, di tutti quanti gli uomini, del 99% di uomini, ehi, ciao, l'emoticon della mano, come stai? Oppure, vedete che provo a invitare la ragazza per un appuntamento, già subito nel, nel primo messaggio, ok, non puoi vedere qua, dove finisce la cosa, ma puoi vederlo anche tu stesso, sulle tue esperienze personali, con quante ragazze sei arrivato, a degli appuntamenti, con quante ragazze sei arrivato ad andarci a letto, da Tinder, puoi vederlo tranquillamente, su te stesso, che quello che stai facendo, se non hai appuntamento, se non hai letto con ragazze, non funziona, ed è quello che fanno tutti quanti, e che per quello che non funziona, se non ci stiamo qua a dilungare, che sarà già anche un video abbastanza lungo, però secondo me, è anche abbastanza, oggi un video un po' più, forse intrattenimento, anche, perché fa anche ridere, i messaggi disagiati, di altri uomini, quindi io qua, gli dico, prova ancora, magari scrivi un messaggio diverso, da quello che hanno scritto tutti quanti gli altri, e io qua, da te ero in buona città, io voglio dargli dei consigli, qua chiede se sei cinesi, quindi qua si sta rivolgendo appunto alle foto della mia ragazza, che è appunto di nazionalità asiatica, cioè di nazionalità asiatica, è un continente, è una ragazza asiatica, e qua, potrei dare un piccolo consiglio, da parte l'avevo spiegato anche in un altro corso, in un bonus sulle ragazze asiatiche, sul fatto che, l'Asia, non è solo Cina, ok, ci sono tanti altri paesi, se ti interfacci con ragazze asiatiche, e non sono cinesi, che se gli dici che sono cinesi, non è proprio il massimo, ok, quindi ci sono tanti altri paesi asiatici, quindi qua, niente, la chat è finita così, non c'è proprio neanche voglia di andare avanti, a parte che, ripeto, ero lì con la mia ragazza, stavamo facendo altro, e però ogni tanto buttavo un occhio qua sul telefono, quindi dopo, vabbè, niente, non c'è niente da vedere qua, ovviamente, bisogna distinguersi in chat, partire con qualcosa che è diverso, rispetto a, ehi, ciao, come va, sei bellissimo, una roba di questo tipo, agganciati a qualcosa che c'è scritto nella descrizione, in questo caso non avevamo messo, se non sbaglio, niente, nella descrizione, però agganciati a qualcosa che c'è sulle foto, agganciati a un dettaglio che c'è nelle foto, provo a intervenire qualcosa, che cos'è che ti ricorda, provo a fare delle supposizioni, ci sono miliardi di cose, e la gente scrive, ehi, capisci che se la ragazza si trova, perché qua abbiamo, abbiamo fatto tipo, qualche swipe, e in due secondi abbiamo fatto tipo, sette o dieci match, c'è una roba del genere, qua ne vediamo appunto sette, immaginati tu una ragazza che sta su Tinder, magari già da qualche mese, che c'ha la pila di 100-200 persone, che gli scrivono, ehi, 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 che vengono battute in mente, che non so se è appropriato fare, andiamo al candidato successivo, e il candidato successivo si presenta, con una foto di lui con una pistola, che, nì, nì, non è per forza una cosa negativa, però in realtà non rispetta la cosa, c'è che si dovrebbe vedere lui bene in faccia, e soprattutto sorridere, quindi questa non è totalmente sbagliata come foto, poteva metterla magari come foto successiva, quindi non come prima foto, e la cosa della pistola sicuramente fa, diciamo, fa presa su alcune ragazze, e non su altre, quindi magari ci sono ragazze che sono magari appassionate di questo, magari ci sono ragazze che lo trovano eccitante come cosa, però va a fare presa su una parte di ragazze, e altre invece le taglia fuori, quindi non è una cosa totalmente sbagliata, in questo caso soprattutto se è una sua passione, una delle cose che devi far vedere su Tinder, sono anche i tuoi interessi, le tue passioni, ne si evince che devi avere anche una vita, ok, se le tue giornate sono il sviarti al mattino, andare nel traffico, poi andare a lavoro, fare un lavoro molto grigio e monotono, che magari anche odi, poi tornare a casa, guardare la tv, poi il telegiornale, poi andare a dormire, ripeti così fino alla fine della settimana, poi il weekend con gli amici, si va a fare gara di rutti al bar, via così fino all'estate, poi in vacanza si va in estate con gli amici, a Mykonos pensando di rimorchiare, non so dove si va in estate, dove si pensi a rimorchiare, poi si va ovviamente in bianco, anche in tutta quanta l'estate, si ha speso un sacco di soldi, poi ripeti così, poi fino alle vacanze di Natale, poi alle vacanze di Natale, sei con i parenti di Natale, ti chiedono dove è la fidanzatina, tu devi dire, ma in realtà sono single per scelta, sì per scelta delle altre ragazze, non per scelta tua però, e ripeti così, finché poi a un certo punto la vita finisce, se questa è la tua vita, la vita della maggior parte degli uomini, che cazzo di foto metti? Ok, quindi le foto derivano dalla tua vita, se la tua vita non fai niente, lo sai che puoi cambiare, la tua vita non è illegale, iniziare a fare delle cose diverse, quindi, e la foto qua con la pistola, nì, magari come seconda, terza, quarta foto però, non come prima foto, ripeto, nella prima foto c'è essere sorriso, perché ti si vede in faccia, non è il massimo come prima foto, ma qua c'è una descrizione anche chilometrica, vediamo, vediamo un po', adesso non mi sto fermando di tanto sulla descrizione, vabbè, tanto come ho detto, la descrizione non è fra le più importanti, quindi, il video poi verrebbe anche, ci si è interlungo, se ci stiamo focalizzando anche sulla descrizione, quindi facciamo così, andiamo avanti, e niente descrizione, e per tanto come ho detto, la parte più importante è la questione foto, e poi un'altra che hai il match, e la parte di scrittura, e qua la foto, nì, questa ci stava magari come prima foto, magari renderà un po' più luminosa, tramite appunto, ci sono miliardi di app, che rendono le foto con un colore migliore, e, ripeto, tante volte c'è come funzionare, c'era già impostato anche il telefono, per lavorare sul colore della foto, però non c'è niente sullo sfondo, cioè, sfondo bianco, non c'è niente, non comunica niente come foto, quindi, non è malissimo, sta sorridendo, potrebbe metterla come prima foto, però non comunica niente, cioè, messa come prima foto, non cattura particolarmente l'attenzione, alcuni requisiti li rispetta, però, e ci vorrebbe anche uno sfondo un po' più interessante, per catturare meglio l'attenzione, andiamo a foto successiva, qua proprio, qua proprio arriviamo all'orrore, e ricordati che, una foto sbagliata, su x foto che metti nel profilo Tinder, una foto sbagliata, ti rovina le altre foto, tu puoi avere magari, tre foto fatte bene, poi una fatta male, ti rovina le altre che hai fatto bene, quindi, vanno benissimo anche, una, due foto fatte bene, piuttosto che cinque foto, dove due sono fatte bene, e tre sono fatte male, e per quelle fatte male, ti rovinano il gioco, qua proprio, il peggio del peggio, lui che posta il joystick, mentre gioca alla Playstation, o quello che è, questo è proprio il peggio del peggio, non puoi postare una roba, cioè ok, la cosa di postare i propri interessi, le proprie passioni, ma deve essere qualcosa, con cui le ragazze si possono relazionare, di base le ragazze non si relazionano, con te che giochi ai videogiochi, ma poi non si vede neanche lui, nella foto, poi si vedono i calzini in fondo, no, no, non si può questa cosa, quindi, interessi che siano comunque relazionabili, con le ragazze, quindi interessi, che sono magari un po' più, sul lato avventuroso, ok, non, cioè se hai come interesse, risolvere il cubo di Rubik, oppure risolvere le equazioni, della matematica, fisica, quantistica, di cui io non ho la minima idea, non sono cose molto relazionabili, con le ragazze, anche la cosa di leggere i libri, magari, se una foto, di tu che leggi un libro, però magari, sotto, magari un albero, con tutta quanta la vegetazione intorno, con il sole, è una foto molto bella, se lavori anche poi, sul colore della foto, ma vai a rendere la foto anche più luminosa, quindi mettendo anche in risalto bene il verde, il cielo, il fatto che ci sia il sole, viene fuori anche una foto fatta bene, stai comunicando magari un tuo interesse, però la stessa foto fatta in casa, sul divano, di tutto, di tutto che legge un libro, è molto meno interessante, quindi, capisci, che non è la questione dell'essere bello, o non essere bello, è la questione di saper fare delle foto fatte bene, o fatte male, ok, un'altra aveva in consulenza, uno che aveva fatto il modello di lavoro in passato, e su Tinder metteva le sue foto di quando lavorava come modello, e non aveva nessun match, perché erano tutte quante sbagliate, per i requisiti di Tinder, quindi devi capire i requisiti di Tinder, non i requisiti di quelli che, secondo un fotografo, sarebbero i buoni requisiti, non importa, ok, potremmo dirungarci qua, in discorsi chilometri, ma siamo soltanto, credo, al secondo profilo, mi sembra, qua, la prossima foto, di lui che va con le paracadute, non male, magari, adesso qua non so, perché io ho fatto gli screenshot, quindi non so se è fatta in buona qualità, però, non è male, magari si potrebbe zoomare un pochino, però anche no, cioè, non è male, magari, i colori forse li ha anche elaborati, non so se siano al naturale i colori, però, non è male, non è male, e però il problema è che tutte le altre foto, sono sbagliate, quindi vanno poi a rovinare il profilo, e poi l'ultima foto, proprio il peggio del peggio, cioè, che questo dovrebbe essere lui, che avrà fatto la foto anche storta, messa in verticale, anziché che dovrebbe essere in orizzontale, di lui che gioca con i suoi figli, immagino, se non mi ricordo, forse avevo letto la sua descrizione, se non sbaglio, lui ha dei figli, non mi ricordo, non puoi mettere i tuoi figli nella foto di Tinder, quindi poi il team, spero che abbia censurato anche la faccia dei figli, però non si può, ok, se hai dei figli, va bene, ok, non scrive una descrizione di Tinder, non farlo vedere nelle foto, ne parli quando sei in chat con la ragazza, o ne parli poi all'appuntamento, ma non nella foto di Tinder, ma porca troia, quindi, è ripreso, no, ok, quindi, andiamo avanti al profilo successivo, al nostro candidato numero 3, qua non c'è la chat, appunto lì con il candidato numero 2, non ho la chat, perché non ha scritto in tempo, perché poi ho cancellato il profilo della mia ragazza, quindi non ha fatto in tempo a scrivere, credo, non lo so, io ho fatto gli screenshot, non mi ricordo, qua andiamo al terzo candidato, che si presenta con una foto, che non sarebbe neanche male, il problema è che porca troia i colori, porca troia i colori, cioè, è super buia la foto, è super buia, ripeto, le foto vanno lavorate a livello di colore, se pensi che le foto che tu vedi, delle strafighe su Instagram, dei modelli, o delle modelle, le foto che vedi sui copertini dei giornali, le foto che vedi in una pubblicità, siano foto al naturale, siano disilluso, che tutte quante le foto di chi lo fa per lavoro, sono tutte quante modificate, non significa a livello di estetica, che ti devi aggiustare la faccia nella foto, non sto dicendo quello, sto dicendo a livello di colore, qua ci sono oltretutto colori che sono anche buoni, quanto è una parte sotto, comunque c'è un basata verde, il cielo era un po' scuro, quindi anche aggiustato a livello di colori, magari non veniva benissimo con la parte superiore, però si poteva di sicuro, è super buia, poteva aggiustare il colore e renderla più luminosa, ok? Ci sono varie cose, qua si può, oltre alla luminosità anche quello che si chiama saturazione, per renderla più colorata, di sicuro il verde sarebbe stato più in risalto, il cielo sì sarebbe stato in risalto, con dei colori non proprio che sono il massimo, però, anche qua dovrebbe essere un po' più vicino, magari utilizzata come seconda foto, come terza foto, perché come ho detto nella prima foto, si deve vedere bene in faccia e che sorridi, ok? Poi delle volte si può anche violare questa cosa, non è che è una regola per forza sempre da utilizzare, però dipende, ok, ricordo che c'è il video con la sua seduzione online, che spiega tutti quanti i vari requisiti delle foto, in maniera specifica e dettagliata, con anche poi le mie dimostrazioni delle foto, però qua stiamo vedendo appunto tutte le cose da non fare, tramite gli errori di altri, e andiamo alla foto successiva, giusto un attimo una parentesi, sempre su questa foto qua, di lui che sta saltando qui, se fosse stata magari fatta un po' da più vicino, magari che lui che guarda l'obiettivo della telecamera, fotocamera, del telefono, quello che è, e che sorride, ci stava anche, magari non con il cielo che sta per piovere, ci poteva anche stare, però era da migliorare, poi qua, nella foto successiva, qua si vede lui che si sta arrampicando, questa qua appunto, come ho detto, non è male come foto, adesso qua i colori non so se siano migliorabili, comunque sono già abbastanza buoni, magari fatta un pochino da più vicino, però non è malissimo come foto, magari senza gli occhiai da sole, è anche meglio, su Tinder appunto, è una cosa che fra l'altro, quando ti registri su Tinder, se non sbaglio, te lo dice proprio Tinder, di non avere foto con occhiai da sole, perché ti vanno a penalizzare, nell'algoritmo di Tinder, devi essere ben visibile in faccia, però, comunque qua sta comunicando una sua passione, un suo interesse, un qualcosa che comunque è molto relazionabile con interessi di ragazze, quindi cose più sul lato avventuroso, quindi non è malissimo, però si poteva fare meglio, e qua, vediamo un attimo se c'è qualcosa d'altro che si può dire, il colore appunto qua del terreno, di queste rocce qua, non è proprio il massimo, però va bene, cioè non è un problema, non è che tutte quante le foto devono avere colori come l'azzurro, il verde, cioè comunque c'è il cielo, e sicuramente era un po' migliorabile, a livello di, come si dice, di colore, però non è malissimo, va bene utilizzarla come foto successiva, quindi questa qua, non è malissima, però la prima foto, è molto migliorabile, la prima foto è veramente molto molto migliorabile, però quanto la linea 2 di foto, non sono foto che fanno totalmente schifo, quindi sicuramente qualche match, lo farà, però potrebbe farne molti di più, se conoscesse un po' di requisiti delle foto, e ripeto la prima foto che ha questa qua, era veramente molto molto migliorabile, passiamo alla chat, con la mia ragazza, anzi diceva, con io che mi fingo la mia ragazza, e allora questa qua scrive, ciao come va, vuoi pianificare qualcosa insieme, quindi questo qua esordisce con subito invitare per un appuntento, a parte che non è neanche un invito, in realtà sì, è un invito fatto non nel migliore dei modi, ma non si può invitare una ragazza dopo neanche un messaggio, cioè non si può come cosa, quindi magari non so, è abituato a, da qua a Dubai ci sono molte escort anche su Tinder, quindi magari sarà abituato a quello, non lo so, oppure anche ragazze che non sono escort, però sono delle gold digger, e quindi se le inviti subito nel primo messaggio, ci stanno per appuntento, perché non sono interessati a te, ma sono interessati soltanto a scroccarti la cena, il drink, o quello che è, e quindi magari era abituato a questo, però con una ragazza che non è una escort, e che non è una gold digger, devi costruire una conversazione per invitarla per un appuntento, quindi, chiaramente è sbagliato qualcosa, io qua dico, facendo un po' la stronza dal prospettiva femminile, dico, sì ma magari prima, perché non abbiamo una conversazione, che mi inviti per appuntento, e qua lui mi dice, ti posso chiamare, qual è il tuo numero? Ripeto, stesso discorso, una ragazza normale, che non sia una escort o una gold digger, è troppo presto, non c'è ancora fiducia per una chiamata, sempre in seduzione online, c'è anche la parte sulle chiamate, deve essere un escalation graduale, non puoi imitare subito una ragazza per una chiamata così dal nulla, e poi qua lui riscrive dopo, forse il mattino, perché il profilo se non lo avevo cancellato il giorno dopo, e quindi mi riscrive EI, vediamo se c'è la parte dopo, vediamo se c'è la parte dopo, lui riscrive, non so di dove siamo, vabbè niente, riscrive lo semplicemente EI, EI, ciao Lucy, che è il nome finto, che avevo dato alla mia ragazza, quindi per chi volesse andare a fare lo stalker, la mia ragazza non si chiama Lucy, dico per gli stalker in ascolto, e quindi niente, qua semplicemente ho cancellato il profilo, e basta, è finita così, non si riapre una conversazione così, ma tanto non è neanche quello l'errore, l'errore non è sul riaprire la conversazione, cioè non aveva senso tutto quello che c'era prima, ma non puoi partire subito invitando una ragazza, e per me sembra una cosa veramente assurda, e però mi devo ricordare, cioè per me sono molto banali come cose, però evidentemente non sono così banali per le persone, passiamo al nostro prossimo candidato, e partiamo dalle foto, qua non so se abbiamo una chat, no qua, ok sì, qua c'è anche poi la chat, ma siamo sempre comunque chat di uno screenshot, o di due screenshot al massimo, qua partiamo con una sua foto super buia, ma porca d'una troia, cioè, qua vediamo se riesco a dire, no, ok, pensavo fosse in un posto che conoscevo, ok, no, non è nel posto che pensavo, però è super buia la foto, porca puttana, non è neanche malissimo, lo sfondo non è il massimo, perché non c'è comunque niente di particolare sullo sfondo, non c'è niente di particolare sullo sfondo, c'è semplicemente la vetrata, e credo forse l'altro sia un palazzo, l'altra parte, non è una buona foto, però ci poteva stare magari come foto successiva, però comunque non comunica niente, magari se nel piatto c'era qualcosa, magari un certo tipo di cibo, magari un cibo anche molto particolare, sicuramente era una foto migliore, avrebbe comunicato magari i suoi gusti a livello di cibo, e quindi anche se ci fosse stato magari qualcosa nel piatto, sarebbe stato meno importante lo sfondo, però in questo caso è super buia la foto, cioè si poteva illuminare la foto, e cioè è assurdo come la gente non sa queste cose qua, però io mi devo sempre ricordare che sono ovvie, per me perché lo faccio di lavoro, lo insegno, però porca te la ripeto, io sono convinto che ci sono milioni di video su YouTube, su questi argomenti, se mettiamo insieme tutti quanti i formatori a livello globale, la gente non entra in testa questi concetti, vediamo la foto successiva, come ho detto nella prima foto si dovrebbe sorridere, e in questo caso appunto non è stato fatto, la seconda foto c'è lui con uno sfondo, che in questo caso non è male, non so cosa sia nello sfondo, però è sicuramente uno sfondo che è più atipico, quindi va sicuramente bene a livello di sfondo, porca troia non con gli occhiai a sole, come ho detto, Tinder ti penalizza a livello di algoritmo, se hai foto con occhiai a sole, e non è soltanto una questione di algoritmo, è anche il fatto che le ragazze ti diranno poter vedere bene in faccia, quindi questa non è malissimo, si poteva migliorare a livello di luminosità, quindi sicuramente non l'ha modificata a livello di luminosità, però a livello di location non è male come foto, sarebbe stata meglio questa come prima foto, anziché come seconda foto. Nella terza foto vediamo lui che sta, credo, giocando, toccando, non lo so, una tartaruga, non so dove possa essere, sicuramente qualcuno che guarda il video magari sa riconoscere la location, non ho idea di dove sia, però non è male questa come foto, però porca d'una puttana, perché con i cazzo di occhiai a sole, perché non guardi, non ti si vede bene in faccia, quindi non era male questa foto, anzi è anche piuttosto buona, sicuramente dovrebbe anche qua migliorare la luminosità, cioè se sei in un paesaggio con vegetazione, porca puttana, lavora sui colori e metti in risalto per esempio il verde degli alberi, però dovrebbe anche guardare verso l'inquadratura, oppure guardare da qualche altra parte, ma la faccia dovrebbe essere più visibile, potrebbe anche stare con gli occhiai a sole, però lo so, dovrebbe vedere meglio in faccia, non come prima foto, questa non la metterei come prima foto, non è da buttare via, però come ho detto, queste sono le cose che poteva fare meglio in questa foto, la foto successiva, anche qua sempre con gli occhiai a sole, io non le ho neanche riguardate le foto di fare questo video, sempre con gli occhiai a sole, e purtroppo è un problema che, anche io in realtà lo commettevo come errore, e perché tutti quanti di solito siamo più fighi con gli occhiai a sole, siamo tutti più James Bond con gli occhiai a sole, e però non va bene per Tinder, su Instagram ci può anche stare, ma qua non stiamo parlando di Instagram, qua stiamo parlando di Tinder, quindi, no occhiai a sole, non è male come foto, non è male come foto, se non ci fossero qui cazzo gli occhiai a sole, la location non è male, però la gente si fa sempre le foto con il cielo, che sta per piovere, quindi si dovrebbe migliorare a livello di colore, e non è male, e ripeto, non è male, si potremmo fare alcune cose meglio, che sono quelle che ho appena detto, andiamo alla foto successiva, qua questa invece no, questa è totalmente da eliminare, cioè che cazzo mi significa questa foto, a parte che sicuramente è anche un selfie, quindi a ripeto i selfie non vanno bene, occhiai a sole, selfie, non comunica nulla sullo sfondo, non c'è praticamente, sì magari c'è un po' di vegetazione, ma non c'è nulla di particolare a livello di sfondo, quindi questa qua invece è totalmente sbagliata, e andrebbe eliminata, nella foto successiva, questa invece come ho detto è buona, non male, qua forse li ha anche modificati i colori, perché sono piuttosto buoni i colori, e qui cazzo gli occhiai a sole, qui cazzo, qua sorride anche, ma questa potrebbe anche metterla come prima foto, se non ci fossero qui cazzo gli occhiai a sole, in assenza di meglio, potrebbe anche metterla semplicemente come prima foto, tenendo anche gli occhiai a sole, però sapendo questa cosa qua, adesso occhio, se ti fai delle foto che poi pensi che potrebbero andare su Tinder, occhio a quei minchia di occhiali da sole, questa la potrebbe tranquillamente mettere come prima foto, l'unica pecca sono semplicemente gli occhiai da sole, qua lo sfondo molto buono, c'è il sorriso, i colori forse sono già come ho detto migliorati, e andrebbe benissimo come prima foto, vediamo se c'è qualcos'altro, qua c'è un'altra, ecco questa qua ne ha messe tante di foto, di solito il numero ottimale di foto è comunque 4 o 5, stare a mettere troppe di foto, stai già svelando troppo di te stesso, togli curiosità alla ragazza, quindi direi massimo 5 foto, 6, siamo già sul confine, non è che senso se metti 7, 8 foto, allora non ottimi match, se sono foto fatte bene, però per esempio incrementi la possibilità di mettere una foto che sia sbagliata, quindi ricordati che una foto sbagliata poi ti rovina tutte quante le altre foto, ecco questa non è male, perché come sfondo, adesso qua non so dove sia, comunque c'è abbastanza vegetazione qui, c'è anche il sole, qua la dovrebbe migliorare a livello di colori, e ci sono sempre quel cazzo di occhiai da sole, quindi ripeto, cioè capisco, si sembra tutti più James Bond, quei occhiai da sole, però è un problema, e si dovrebbero migliorare qua i colori come ho detto, però a livello di sfondo non è male, andiamo alla foto successiva, anche qua sono tutti quanti sfondi più particolari, quindi sicuramente è stato intelligente nel farsi foto quando vai in posti che sono un po' più particolari, quindi io sono il primo che non si fa foto frequentemente, però quando sono in posti che sono un po' più particolari, con degli sfondi un po' più particolari, fatti una minchia di foto, quando vai in una nuova città, quando vai in un nuovo paese, fatti subito magari una foto con il monumento tipico di quella città, e poi dopo ti fai il tuo giro turistico, ti fai quella minchia che ti pare, ma quando sei in posti un po' più interessanti, cogli le occasioni, poi nel corso dei mesi, nel corso degli anni, nel corso della tua vita, ti screa un arsenale enorme di foto, quindi si parte tutti quanti da una foto, e poi poco a volte con il tempo, ci si costruisce il proprio arsenale, quindi qua il problema è che non sta guardando nella fotocamera, nella videocamera, o anche con il telefono, non devi per forza farti le foto con una macchia fotografica professionale, e anzi, l'importante è che rispettino i requisiti delle foto, che sono spiegate appunto nel videocorso Seduzione Online, quindi qua semplicemente potrei migliorare i colori, qua è sempre con gli occhiai a sole, però non sta guardando neanche nell'inquadratura, io per esempio ho fatto vedere nel videocorso Seduzione Online, una mia foto che mi ero scattato a Barcellona, dove dall'alto si vedeva tutta quanta la città, e il problema è che quella foto lì era scattata, con me di schiena, che sì mi si vedeva così di lato, però è oltretutto aveva anche gli occhiai a sole, e non era una foto buona da utilizzare per Tinder, andava bene per Instagram, ma non per Tinder, però è un peccato, perché si vede tutta quanta Barcellona da tutta sopra la città, quindi non sono foto che vanno bene per Tinder, se sei girato di spalle, quindi andiamo alla foto successiva, anche questa qua, e non è male come location, anzi molto buona come location, però è super lontanissimo qua, in questa foto, cioè non si vede neanche la sua faccia, c'è tutto quanto scura la faccia, non si dice potrebbe essere chiunque, potrebbe essere anche un'altra persona, e peccato perché gli sfondi non sono male, magari i colori li poteva anche un po' migliorare in alcune foto, però gli sfondi non sono male, peccato perché non conosce, qui sicuramente non farà zero match, qualche match lo farà, però potrebbe farne molti molti di più, le foto come ho detto sono anche forse troppe, vediamo poi la chat qua, non ho io neanche risposto, gli scrive, ehi come va, come stai, vuoi vederti per un drink qualche volta? Io non so a cosa siano abituati le persone qui a Dubai, però immagino, cioè in realtà quando sono arrivato qua a Dubai per la prima volta, sono qua ormai da tanti mesi, già da, non vorrei dire, ma mi sa anche quasi da un anno, e quando sono arrivato qua la prima volta, cioè in realtà già da un po' di mesi, dicevo, ma qua la gente come fa a scopare? Perché di fatto io quando vado ad approcciare di giorno nel Dubai Mall, nel centro commerciale, non c'è nessuno che approccia, sì ci sono discoteche, però adesso non sono mai stato in discoteca, però qua è molto, diciamo, è molto famosa la questione del fatto che ci sono tante escort, e quindi semmai la gente va solo ad escort, quindi non lo so, poi non che in Italia sia diversa la cosa, però non so a cosa siano abituati qua gli uomini per fare gli inviti subito così nel primo messaggio, e non glielo neanche ha risposto, e via, quindi questo qua era il candidato numero 4, andiamo al candidato numero 5, vediamo un po' la sua prima foto, prima foto qua dove minchia, qua non c'è nessun tipo di sfondo particolare, niente, e oltretutto anche un selfie, no, tutto sbagliato, tutto sbagliato, non comunica niente questa foto, ripeto i selfie non vanno bene, e non c'è niente sullo sfondo, e non c'è neanche il sorriso, e a livello di luminosità non è una foto scura, sicuramente si può migliorare il colore, però mancano tutti quanti gli altri requisiti, vediamo la seconda foto, la seconda foto, la foto allo specchio, il camerino, mi sa che è anche un camerino, quindi credo sia un camerino, quindi mi sa che il vestito non è anche suo, quindi no, non fare questa cosa qua, totalmente sbagliato, andiamo alla foto successiva, quindi ripeto, selfie, foto allo specchio non vanno bene, e questa è una foto, mi sa che anche questo è un selfie, però forse, sì, piuttosto convinto che sia un selfie, però ha cercato di farlo apparire come se non fosse un selfie, quindi, però non va bene, perché non comunica niente, non comunica niente come foto, quindi non c'è niente di interessante sullo sfondo, e non sorride, quindi nella maggior parte delle foto, comunque, dovresti anche sorridere su Tinder, ora non sempre, dipende anche da altri requisiti, ci sono vari requisiti per le foto, ripeto, sono spiegati nel videocorso seduzione online, non per forza di sempre sorridere, però, sicuramente avrebbe aiutato il sorridere nella foto, però, sono foto che sono sbagliate, anche qua è una foto qua, non so se sia fatta da lui, se farla fatta con l'autoscatto, però sicuramente è meglio di un selfie, però qua, sembra tipo forse in treno, non lo so, non è, però ripeto, cioè non comunica niente, non comunica niente, non c'è niente sullo sfondo, non c'è, qua per esempio, lui non sta sorridendo, ma qua in questo caso va anche bene, comunque sta guardando altrove, ci sta come cosa, però non comunica niente come foto, non c'è nulla sullo sfondo, ora ci potrebbe anche stare, come foto magari successiva, come seconda foto, terza foto, quarta foto, che infatti qua è una delle foto che sono dopo, però, non, cioè perché fare le cose che funzionano peggio, ok, in ogni foto, non è vero che in ogni foto, dipende, bisogna studiare dal video con lo so seduzione online, per capire un attimo bene quali tutti quanti requisiti delle foto, però qua, ripeto, non comunica nulla come foto, se tutte e quante le altre foto fossero state giuste, questa ci poteva anche stare, sta guardando altrove, non è male come foto, non c'è niente sullo sfondo, però ci potrebbe anche stare come foto, se tutte e quante le altre fossero giuste, però il problema è che tutte e quante le altre sono sbagliate, poi quest'altra foto, questa qua, questa qua, lo sfondo non è male, purtroppo il cielo non era il massimo della limpidezza, questa qua è una foto fatta, adesso qua non so se, se è Londra, o se è la ruota panoramica che c'è a Dubai, che è, e se è andata a Dubai, penso sia appunto una foto scattata a Dubai, dove c'è la ruota panoramica, e quindi a livello di sfondo non è malissimo, magari poteva farla meglio, cioè ci sono un miliardo di punti, dove puoi farti la foto con quella ruota panoramica, poteva sicuramente farla meglio a livello di punto, però è buia come foto, non sta sorridendo, si può migliorare come foto, vediamo cosa c'è dopo, ok, e poi dopo abbiamo la chat, c'è quasi il peggio del peggio, che parte con una gif, o con, non so se dovrebbe essere una gif, se non sbaglio, e qua chiaramente è solo uno screenshot, non si può partire con una roba del genere, cioè appari come totalmente un disagiato, cioè già le foto non sono il massimo, in più parti da disagiato, non si può, ok, ovviamente non gli ho risposto, e quindi niente, questo qua era il nostro quinto candidato, e andiamo al sesto candidato, vediamo un po', e allora partiamo con una foto in bianco e nero, che questo è per esempio, quando ho parlato prima di quello di questo studente, che un altro avevo avuto in consuenza, che usava le sue foto, quando lavorava come modello, usava le foto in bianco e nero, le foto in bianco e nero, magari dal lato di, non so, uno che si occupa di queste cose professionalmente, che cazzo ne so, si occupa di fare gli album fotografici per modelli, per Instagram potrebbe anche dare bene una foto in bianco e nero, non per Tinder, ok, quindi non importa che uno faccia il fotografo, che uno sia professionista, della luce, che sappia tutte le inquadrature perfette, non importa, se non conosci i requisiti delle foto per Tinder, io solo una volta in vita mia ho fatto uno shooting fotografico, che era appunto quando sono arrivato qua per la prima volta a Dubai, perché volevo farmi un po' di foto in vari punti strategici, che poi sapevo che avrei utilizzato sia per Tinder, sia anche per Instagram, e dovevo dargli le direzioni, io mi dicevo mettiti qua, fai così, fai così, erano tutte quante foto, poi ho fatto anche foto che erano sbagliate, perché la fotografa non stava zitta un secondo, ti diceva no, guarda mi serve la foto fatta così e cos'è, e lui diceva no, ma secondo me è meglio così, quindi se fai delle foto con un fotografo, devi sapere di tu i requisiti delle foto di Tinder, i fotografi non li sanno i requisiti delle foto per Tinder, ok, quindi potrebbe entrarmi in divagazioni, però poi già il video mi sa che è già abbastanza lungo, e non c'è niente sullo sfondo, c'è soltanto una foto di lui, non sorride neanche, ripeto, per la prima foto è molto importante sorridere, quindi non comunica niente, all'interno di sfondo è in bianco e nero, quindi non va bene, la seconda foto, ah no, questa è la descrizione, questa è la descrizione, però vabbè, ripeto, non ci stiamo a focalizzare sulla descrizione, perché tanto è la parte meno importante, andiamo alla foto successiva, qua c'è lui, che sta facendo, non so bene che cosa, forse sta preparando andare sui go-kart, che sicuramente sta comunicando una sua passione, quindi se è una sua passione, non lo so, e quel cazzo di occhiali a sole, se magari si li toglie, sarebbe stata meglio, magari se voleva far vedere la cosa di go-kart, sarebbe stato magari meglio farsi a foto, nel mentre che si preparava, entrava nel go-kart, quindi con ancora il casco non messo, perché se no non ti si vede in faccia, però mentre che è senza quel cazzo di occhiali a sole, però mentre sta entrando nel go-kart, così si vede meglio, è più chiaro, perché qua uno deve effettivamente guardare bene, e non è di immediata comprensione, quindi se non è da buttare come foto, si poteva fare meglio, quindi vedi come non conoscendo i requisiti delle foto, poi ci vuole un attimo a fare, infatti come ho detto, sono la stragrande minor parte degli uomini, che hanno risultati su Tinder, ma perché gli uomini non capiscono un cazzo, tutte quante queste cose, che capiscono adesso nel vedere tutte queste cose, magari lecito, che uno non sa tutte queste cose, però uno potrebbe anche formarsi, da un certo videocorso, che si chiama seduzione online, che dura 20 ore, sono tutte quante queste cose spiegate bene, insieme alla parte descrizione, insieme alla parte di chat, con 30 mie dimostrazioni di chat, dal primo messaggio, fino all'appuntamento, tutte quante commentate messaggio per messaggio, poi la foto successiva, anche lui con questi cazzo, gli occhiali a sole, proprio una piaga, questa piaga di occhiali a sole, e lo sfondo non è malissimo, c'è comunque uno sfondo, diciamo, di vegetazione, un panorama, non è malissimo, poteva migliorarla di sicuro, a livello di colori, e però qui cazzo, gli occhiali a sole, vanno tolti, e andiamo alla foto successiva, qua lui la foto in ascensore, questo sembra anche tipo l'ascensore, dove vivo io, quindi non vorrei che vivesse, dove vivo io, no, però è diverso l'ascensore, e le foto di ascensore, no, no, la foto allo specchio, no, non va assolutamente bene, andiamo alla foto successiva, ecco, qua è con qualcun altro, e io, vabbè, adesso qua, dovrebbe essere quello su a sinistra, lui, poi mi devo ricordare che le foto, saranno censurate poi nel video, io le sto vedendo in versione non censurata, però non fare foto, non mettere su Tinder foto dove sei insieme a qualcun altro, perché poi si crea l'effetto indesiderato, che se tu guardi le foto, cioè che la ragazza guarda le foto, e dice, ma chi cazzo è nella foto, non lo capisci, non lo capisci la ragazza, prova a immaginarti al contrario, sicuramente ti sarà capitato qualche volta, di magari vedere qualche ragazza su Tinder, che aveva le foto in gruppo, e magari in ogni foto era in gruppo, e tu dici, ma chi cazzo è di queste, e di solito lo fanno, anche perché sono delle ciccione, e quindi non vogliono farle vedere, non vogliono lasciare il dubbio, di chi è la ragazza nella foto, e quindi così ti fregano le ragazze alcune, quindi di solito quando mettono le foto in gruppo, è perché sono ragazze che non sono particolarmente belle, o magari sono in sovrappeso, e quindi si mascherano all'interno di foto di gruppo, quindi comunque non mettere foto di gruppo, perché poi la ragazza deve fare lo sforzo di capire chi è, quella persona che sei tu nella foto, ora ci possono essere delle eccezioni, delle volte, se ti si è fatto mai una foto con Cristiano Ronaldo, magari può anche aver senso metterla come foto, però di base non mettere foto di te con altri, mi ricordo un'altra una ragazza che aveva messo la foto, con uno chef famoso che c'è qua a Dubai, che lo conosco praticamente tutti, e io mi sono agganciato come per la frase d'approccio, mi sono agganciato al chiedere un qualcosa riguardo allo chef, riguardo al ristorante dove aveva mangiato, e quindi ci poteva anche stare, anche al contrario, quindi fatto da un uomo, però di base non mettere, se sono tuoi amici, se sei il tuo datore di lavoro, c'è chi cazzo è questo qua nella foto, quindi non lo so, non mettere foto con altre persone, perché se no non si capisce poi chi sei tu nella foto, andiamo alla foto successiva, e qua entriamo proprio nel disagio, adesso qua non puoi vedere la faccia di lui, però è anche molto meno curato rispetto ad altre foto, nelle altre foto magari era un po' più in ordine, qua si vede proprio che la non cura dei dettagli, quindi qua proprio totalmente diverso, anche dalle altre foto, in macchina, con un selfie, con la buccioluce che fa schifo, no, non si fa come foto, andiamo alla foto successiva, anche questo qua forse è un selfie, penso che sia anche questo qua un selfie, quindi come ho detto, i selfie non vanno bene, quindi ho già detto le cose in questo video, quindi siamo forse, penso verso la conclusione di questo video, ne abbiamo ancora uno di candidato da vedere, e poi per concludere, non so se è l'ultima foto, foto di gruppo, giusto per aggiungere la ciliegina sulla torta, non si capisce chi cazzo è di questi, adesso dovrebbe aver capito chi è, dovrebbe essere quello lì sulla destra, però no, adesso magari questa qua è la sua famiglia, non lo so, chiaramente poi team, censuriamo i volti di tutti quanti, in questa foto, però no, non si va bene, mettiamo che sia la sua famiglia, che non penso, non lo so, però va bene, non significa che devi volermare la tua famiglia, non metterli nelle foto di Tinder, porca puttana, andiamo poi alla cosa che c'è, dopo un'altra foto, qua no, no, cioè ci poteva anche, non credo sia la sua macchina, non credo sia una macchina sua, ci potrebbe stare se fosse una sua macchina, che è molto particolare come cosa, però non mettere foto di te appoggiato a macchine, che non sono tue, quindi non cercare di fare qua, ci potremmo entrare in discorsi, che sono una balanza lunghi, che non li facciamo adesso qui, occhiei al sole, non vanno bene, allo sfondo, no, non mettere foto con macchine, che non sono tue, e c'è anche molto contrasto, cioè qua lui è in ciabatte, in pantalocini corti, c'è anche molto contrasto, per esempio, con le foto dove magari era più elegante, non va bene, c'è foto dove sei proprio tutto sbragato, cioè che sei magari in spiaggia, tutto quanto sbragato, ci può stare in certe situazioni, però mettiti in una posa, dove non sei tutto quanto sbragato in spiaggia, quindi qua non va bene come foto, e non c'è la chat con questo qui, perché non ha neanche scritto, non ha fatto in tempo a scrivere, perché poi avevo cancellato il profilo, passiamo all'ultimo candidato, l'ultimo candidato, di lui abbiamo anche la chat, la prima foto, allora, lui forse era, non so se aveva gli occhiai al sole, però comunque buono che non ha gli occhiai al sole, in questa foto, allora che ci penso effettivamente, tu che stai vendo i video con le foto, con le facce censuate, non vedi chi aveva gli occhiai al sole, a chi non ce l'aveva, mi sono scordato di questa cosa qua, comunque, e questo qua, lui non ha gli occhiai al sole, in questo caso, lo sfondo non è male, c'è comunque l'acqua, c'è tutta quanta la città, questa credo sia la zona di Marina, credo, magari non lo so, non so se qualcuno è di Dubai, magari non lo sa meglio, però dovrebbe essere la zona di Marina questa, non è malissimo come foto, però magari sorridere nella foto sarebbe stato meglio, e se non sbaglio, mi sa che ha gli occhi anche un po' sforzati, per il fatto che ha il sole in faccia, quindi bisogna anche essere un attimo abili, se hai il sole in faccia, nel tenere bene gli occhi aperti, però magari anche non farsi foto eccessivamente, il sole in faccia, così puoi tenere bene gli occhi aperti, sarebbe anche una cosa abbastanza intelligente, da fare, quindi foto non da buttare via, non è da buttare via, però si poteva fare meglio, e i colori forse sono anche modificati, non lo so, comunque l'azzurro è abbastanza azzurro, forse si poteva migliorare ancora un pochino, però non è totalmente da buttare via, e il sorriso, mancava solo il sorriso, in questa foto, e magari gli occhi meno sforzati, per il fatto che c'è il sole, e la seconda foto qua, non comunica niente, non comunica niente, c'è uno sfondo che è scuro, non comunica niente, quindi in questo caso non è con gli occhiai a sole, fortunatamente, però non comunica niente come foto, non va bene, cioè allora non è che totalmente è da buttare via come foto, cioè se lui avesse anche svariate foto, che vanno bene, che comunicano qualcosa, a livello di sfondo, una foto così ci potrebbe anche stare, però una, ok, e però il problema è che tutte quante le altre foto, in questo caso sono solo due, e sono sbagliate, vediamo la parte di chat, e qua esordisce con un bel ciao, come tutti quanti gli altri, io faccio la stronza della prospettiva femminile, gli dico prova ancora, magari con un messaggio diverso da quello che hanno scritto tutti, lui dice, dove sei adesso, andiamo in discoteca, perché evidentemente era tipo venerdì sera, o sabato sera, e quindi mi ha detto, dove sei adesso, andiamo in discoteca, e non si invita un ragazzo, dopo due secondi che ci stai chattando, porca di una troia, e io qua gli dico, magari prima facciamo un attimo di conversazione, e lui dice, ok, inizia tu, ora c'è, no, ma ti pare, la ragazza, qua sei uno sconosciuto, quindi qua sto parlando a lui, però ce lo sto parlando a tutti quanti quelli che stanno guardando in questo video, cioè la ragazza inizialmente non ti conosce, sei uno sconosciuto, ne ha altri 100 milioni lì in chat, che gli scrivono, e poi ogni tanto forse qualcuno gli sveglio, che scrive qualcosa di un po' più interessante, c'è, però perché una ragazza dovrebbe qua, investire nella conversazione, non ti conosce, qua lui sta chiedendo un investimento alla ragazza, non ha senso chiedere un investimento quando la ragazza non è ancora interessata, non ha alcun senso, sei uno sconosciuto, nei altri 100 milioni devi prima generare interesse nella ragazza, facendo una chat che sia diversa da quella che fanno tutti quanti gli altri, poi quando hai accumulato interesse da parte della ragazza, puoi chiedere degli investimenti da parte della ragazza, ma non subito, all'inizio sei uno sconosciuto, la ragazza non ti deve niente quando sei all'inizio della chat, quindi a meno che se lui qua scriveva un messaggio giusto, magari di qua eravamo già comunque dopo due o tre messaggi, se scriveva il primo e il secondo messaggio giusto, magari poteva chiedere un investimento, ma non quando è particolare nel peggiore dei modi, cioè gli uomini non capiscono un cazzo, né delle foto, né della parte di chat, io qua giusto perché ho detto ma si rispondiamo io ancora, io gli metto un test, quindi ho detto dai vediamo come risponde, gli dico cosa cerchi qua su Tinder, vediamo lui cosa che ha risposto nello screenshot successivo, lui risponde qua che è in vacanza, che era qua in visita a Dubai e che cercava un'amica, e qua io poi non ho più risposto, lui dopo un po' ha mandato il punto di domanda, meno male che siamo alla fine del video perché mi sta venendo, non lo so, mi si sta danneggiando il cervello nel vedere tutte queste cose fatte sbagliate, e è sbagliata questa risposta qua, cioè poi dire che sto cercando un'amica, cioè paresemente falsa, come cosa che cazzo ci fai su Tinder se stai cercando un'amica, quindi una risposta corretta, anche questo è spiegato in seduzione online, bisogna dare una risposta da paraculo, a questo tipo di domanda, queste sono domande che delle volte le ragazze te le fanno su Tinder, si chiamano appunto test, e ci sono diversi incroci, nel senso che ci può essere che la ragazza cerca una relazione, e anche tu cerchi una relazione, c'è il caso in cui la ragazza cerca una relazione, e tu cerchi una troppa amicizia, c'è il caso in cui la ragazza cerca una troppa amicizia, e tu cerchi invece una relazione, e c'è il caso in cui la ragazza cerca una troppa amicizia, e anche tu cerchi una troppa amicizia, quindi a seconda del caso, a seconda della situazione bisogna dare una risposta piuttosto che un'altra, quando la ragazza ti chiede cosa cerchi qua su Tinder quindi non abbiamo altri candidati quindi come vedi, e questo qua ripeto poi magari un giorno faccio lo stesso esperimento mettendo la geolocalizzazione in Italia ma potrei fare lo stesso esperimento, tanto non cambierebbe niente magari sarebbe anche peggio a livello dei profili che vedrei e di quello scrivo in chat gli uomini ma si può fare la stessa cosa tranquillamente mettendo la geolocalizzazione anche in altri paesi anche la stessa cosa, poi potrei farlo mettendo la geolocalizzazione magari in qualche paese asiatico mettendola magari in America, in Sud America non cambierebbe niente comunque quindi se vuoi evitare di fare tutti questi errori e capire un attimo come si fa su Tinder in modo da prenderti la stragrande maggior parte dei ragazzi anziché rimanere soltanto con le briciole come tutti questi uomini che hai visto e come tutti gli altri uomini in chat ti ricordo che ci sono tutti i vari percorsi formativi di approcciarla.it in questo caso nello specifico è il videocorso seduzione online trovi tutte le informazioni cliccando sul primo link in descrizione o andando sul sito www.approcciarla.it se hai domande, dubbi, non sai qual è il percorso formativo più adatto alla tua situazione c'è il numero di telefono gratuito che puoi chiamare lo trovi in descrizione parlerai a voce con uno dei nostri consulenti per fare tutte le domande che ti servono o se no anche sempre nella descrizione trovi il contatto Whatsapp sempre per parlare via messaggio con uno dei nostri consulenti fa sempre tutte le domande che ti servono via messaggio detto ciò ci vediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti.